Lunedì 4 settembre, ieri il campionato di Serie A si è fermato per gli impegni della Nazionale Ha giocato però il Pordenone che ha vinto in casa contro il Sud Tirol Parleremo anche di questo, tra poco andremo a vedere anche le immagini dei gol della partita di ieri Andremo a sentire le interviste ai protagonisti nella domenica di ieri Da segnalare anche il Gran Premio di Monza con un piccolo flop per la Ferrari Che non è riuscita a vincere il Gran Premio di casa Tante cose di cui parlare, partiamo però con la nostra Udinese Partiamo con le pagine sportive del Messaggero Veneto Che oggi aprono con una lunga intervista a Mister Del Neri La vedete alle mie spalle Andiamo a leggere assieme i passaggi salienti di questa intervista Gigi senza rete, paura della Serie B? L'anno scorso Ora no, la verità di Del Neri tra i bomber che non c'è e le scelte tattiche Paura della Serie B? Quella c'era l'anno scorso Ora no, Gigi Del Neri raccoglie la palla avvelinata delle critiche piovute sull'Udinese Dopo la chiusura della finestra di mercato e la rilancia nella metà campo avversaria Dove si trovano assiepati molti tifosi da tastiera Visto che arrivano dal web, dai social network le critiche più feroci sulle scelte della società Manuel Geroline seduto accanto parla di una scelta dettata anche dalle richieste della piazza Da quanto tempo non avevamo due titolari dell'Under 21 come scuffette pezzella? Si chiede per tirare in ballo gli appelli a Pozzo dell'anno scorso Ricordate, giovani e italiani Questo l'inizio dell'introduzione all'intervista di Del Neri Che appunto analizza la situazione Parla anche della cessione di Terò e dice Eravamo arrivati al punto che prima supportavamo i suoi movimenti Poi li sopportavamo Meglio salutarsi meglio Maxi Lopez dice Del Neri E poi ancora parla delle difficoltà della squadra Legate anche agli infortuni Abbiamo avuto dei problemi perché Fofana e Samir sono reduci da un lungo infortunio Perché Widmer si è infortunato e De Paul senza un vero esterno alle spalle rende di meno La catena di destra lascia attestare le catene nel calcio Preferisco altri termini senza troppe fantasie Io adesso non devo pensare a questo Devo ragionare sugli equilibri che devono essere ricreati In attacco per esempio dove avevamo un lasagna Che non è una prima punta E poi ancora l'intervista che prosegue Per quanto riguarda in particolare l'opinione su Baic La società ha fatto un investimento E' del 94 e finora ha giocato solo in Turchia Va fatto crescere anche sotto il profilo fisico Dice Del Neri E poi Pavoletti e i sogni Troppi soldi chiedevano 25 milioni Tra acquisto e ingaggio Anche per confermare Zappata L'Udinese ha fatto bene a rinunciare Dice ancora Del Neri E poi per quanto riguarda Un passaggio su Maxi Lopez Del Neri Dice informatevi Informatevi meglio La più grande bufala è stata quella foto Di 4 anni fa Che ha cominciato a girare tra i tifosi Dopo il suo acquisto Così per qualcuno Non solo era scarso Maxi era anche grasso Non mi divertono troppo queste voci Sono cattiverie gratuite Aspettatelo sul campo E giudicatelo Dice ancora Il mister E poi appunto Vediamo anche Altri Interventi Altri Passaggi Per quanto riguarda La politica Dei Pozzo Del Neri Dice vogliamo crescere Con il gioco E la valorizzazione Dei nostri giovani Le ambizioni Vanno bene Ma bisogna Essere realisti E intanto Domani si riprende La preparazione Con tanti Assenti Per gli impegni Con le rispettive nazionali Entro mercoledì Però Torneranno tutti Alla base Tra oggi e domani Sono 13 I bianconeri Impegnati Con le rispettive Rappresentative Un passaggio Anche Sull'articolo Di Bruno Pizzul I problemi Si possono Risolvere Dice Pizzul Voltiamo pagina Andiamo a leggere Ancora Un articolo Sulla nostra Udinese Da Angella A Ianto Patto Per la salvezza Finito Il mercato Che gli aveva Visti Possibili Partenti Nelle ultime ore I due bianconeri Pronti a dare Il loro contributo Per l'obiettivo Finale Stop Alle chiacchiere Il difensore Sembrava destinato Al Crotone Il cieco Nel mirino Del Milan E della Juve Ma appunto Come sappiamo Sono rimasti A Udine E domani Dicevamo La ripresa Degli allenamenti Pensando Al Genoa E poi Anche Un passaggio Sulla voce Dei tifosi La squadra Non è stata Rinforzata Ma saremo Al Friuli A sostenerla Dice La UC In un comunicato Dal messaggero Veneto Andiamo Adesso Sulle pagine Del Gazzettino Andiamo A vedere Anche Gli articoli Sul Gazzettino In realtà Abbiamo qualche problema Di visualizzazione E allora Rimaniamo Sul Messaggero Veneto E Andiamo A parlare Di Pordenone Andiamo A parlare Di Pordenone Che ieri Ha vinto Nell'esordio Casalingo Contro L'Alto Adige Per 3 a 1 Rimonta E primato Il Pordenone Vince E sogna Alto Adige E battuto 3 a 1 Pocherissimo Di successi Tra Campionato E Coppa Grande esordio Al Bottecchia Al Bottecchia Per i Neroverdi Che prima subiscono Poi Travolgono I rivali I primi gol Per Gerardi E Ciurria 5 su 5 Un avvio Di stagione Leonardo Colucci Non se lo sarebbe Probabilmente Mai Sognato Un avvio di stagione Così Invece E' tutto vero Tra Coppa E campionato Il Pordenone Infila Il pocherissimo Di vittorie E conserva Il primato A punteggio pieno In Lega Pro Dopo il successo Colto con pieno merito All'esordio Casalingo Contro L'Alto Adige Letteralmente Annichilito In rimonta Dai Ramarri Dopo un avvio Faticoso I Neroverdi Infatti Partono subito All'attacco Con il loro 4-3-2-1 Ma soffrono Inizialmente La muscolarità Dell'Alto Adige Che con il suo 3-5-2 Fa densità In mezzo E concede Poco spazio Burrai Spesso costretto A giocare Di prima Anche quando I suoi compagni Sono mal Posizionati Come abbiamo detto Il Pordenone Passa In svantaggio Ma poi Arriva La grande reazione Con tre Gol Che gli permettono Di portare A casa I tre punti E allora Andiamo a sentire L'intervista A mister Colucci E così andiamo A rivederci Anche le immagini Di questo 3-1 Per il Pordenone Contro il Zuntirol Mistera Colucci È quello È quello È quello È quello di giocare Poi ci sta Che qualche volta L'avversario Ti riparte Anche se il campo Poi era bagnato Così qualche Appoggio È venuto meno Però Sono stati bravi Non era facile Su Tirol Su Tirol Era ben messo in campo Squadra fisica Ostica Quindi Sono stati bravi E complimenti Ecco Adesso Giriamo pagina E come sempre Pensiamo alla prossima Naturalmente È andato a segno L'intero tridente Quest'oggi E ne parlavamo Anche con il presidente Loviso Per lei Sarardo Poi Farli ruotare un po' tutti In settimana Si lotteranno Con i denti Con le unghie La maglia Meglio Quando fanno Con gli attaccanti Per un semplice motivo Gli puoi chiedere Anche un sacrificio In più Un ripiegamento In più E quindi Perché Lavorano anche Sull'entusiasmo Sull'asticella Della stima E quant'altro Poi per quanto riguarda Se gioca Tizio Caglio Semprogna A me Sinceramente Importa poco L'importante È che Il Pordinone Poi Vinca E quindi Abbiamo Sette giocatori In avanti Qualcuno Non è arrivato In ottime condizioni Lo stiamo aspettando Qualcuno Gli si chiede Di stringere i denti Come Ciurria Che ha fatto Il ritiro Con lo Spezza Facendo Solo Allenamenti a secco Martignaco Dopo la partita Di Venezia Due settimane È stato fermo E quindi Devo solo Che ringraziare Questi ragazzi E poi da quest'anno Il fatto che ci sono Cinque sostituzioni Agevola Anche nella gestione Dei cambi Come ho detto In passato Il martedì Anziché arrivare E quattordici Con sorriso Arrivano in Diciassetti Diciotto Con sorriso Queste dunque Le parole Di mister Colucci Andiamo a vedere Anche L'intervista Sul messaggero Veneto Colucci E raggiante Domani posso Uscire Col sorriso Il tecnico Pragmatico Dice ma adesso Pensiamo Al Fano Prossimo Avversario Del Pordenone Lo Visa Il gol di Ciurria Tra i più belli Che ho visto Qui E allora Andiamo a sentire Anche le parole Di mister Lo Visa Vediamo se Dalla regia Riusciamo Ad avere Il contributo Eccolo Lo vedo in preview Quindi sentiamo Le parole Di Lo Visa Arrivato Mauro Lo Visa Presidentissimo Del Pordenone A festeggiare Questa quinta vittoria Di fila Sì Soprattutto La seconda In campionato Che era importante Era importante Ripartir bene Non siamo ancora Brillantissimi Però credo che La squadra Quando decide Di andare a far golo Decide di fare La partita La fa Quindi Credo che sia Una squadra matura Per certi versi Insomma Però ripeto Importante Far punti all'inizio Poi Piano piano Cercheremo anche Di recuperare Perché oggi Avevamo fuori Anche qualche giocatore Importante Quindi Però siamo felici Insomma Per questa vittoria Tra le tante note Positive di oggi Comunque è andato a segno L'intero tridente Sì Un altro tridente Era fuori Importante No Magnaghi E Miguel E quindi Davanti secondo me Abbiamo un potenziale Molto importante Sono contento per Federico Che ha fatto gol Gerardi Difatti dal momento Che ha fatto gol Poi ha cominciato Anche a far giocare La squadra E poi il terzo gol Credo che sia Un gol da far vedere Veramente Perché è un'azione Straordinaria Dobbiamo migliorare Un po' la condizione Piano piano Però la squadra Secondo me È un po' meno spettacolare Forse dell'anno scorso Ma più concreta Più matura Sono molto fiducioso E bene ha fatto Anche oggi Formiconi Sulla fascia destra Sì Soprattutto il primo tempo Soprattutto il primo tempo Ripeto Anche lui deve migliorare La condizione Anche Michele Poi sugli esterni Abbiamo due rincalzi Abbiamo altri due titolari Pellegrini E lo stesso È entrato Secondo tempo Quindi abbiamo possibilità Di ricambi Suono il ruolo E credo che sia importante E soprattutto Che il pubblico Venga al bottecchia E si diverta Certamente Ora si va a Fano E poi a Bassano Due trasferte insidiose Con che approccio Dovranno presentarsi i ragazzi? L'approccio Credo che Noi potremmo sbagliare tutto Ma non l'approccio Perché è una cosa A cui lavoriamo sempre Ormai fa parte Un po' del nostro DNA Come società Lo facciamo Dai primi calci Fino all'ultima scuola L'approccio Non si può mai sbagliare Poi le partite Sono difficili Guardate che Su Tirola È una scuola tosta Fisica È difficile da affrontare Siamo stati bravi Secondo me Piazientosi A vincerla Soprattutto a chiuderla Però Le prossime due trasferte Sono due trasferte difficili Però noi Una alla volta E soprattutto Sono molto fiducioso Ripeto Queste le interviste Realizzate dal nostro Davide Zanirato Nel dopo partita Tra poco Ci collegheremo Con la polizia locale Per il consueto Aggiornamento Sul fronte traffico Prima però Uno sguardo Veloce Ai risultati Di ieri Del girone B Di serie C Albinoleffe Mestre 1 a 3 Bassano Ravenna 2 a 1 Feral Pissalore Nate 0 a 1 Fervana San Benedettese È stata sospesa Gubbio Sant'Arcangelo 1 a 2 Modena Vicenza Si giocherà oggi Padova Fanno 2 a 1 Pordenone Sul Tirol 3 a 1 Triestina Reggiana 1 a 1 Ieri ha riposato Il Teramo E vediamo Il Pordenone In testa Alla classifica A punteggio pieno E adesso colleghiamoci Con la polizia locale Al telefono con noi L'ispettore Alessandro Baita Al quale chiediamo subito Qual è la situazione In questo momento in città Buongiorno 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 a tutti La situazione È veramente tranquilla Da segnalare di rilevante In via Colmorbasso È entrato via Birago Al confine Come stanno dicendo La chiusura Totale Per 5 giorni Per lavori Di scavo Via Passon Continua la chiusura Per riscaldamento Ma via Pordenone Rimane percorribile Sempre ci senti da voi Via Le Feriere Purtroppo Ci sono dei problemi Nella lavorazione Continua la chiusura Fino a mercoledì Il senso unico alternato In via Tavagnacco Continuerà La fresatura Per l'asfaltatura Prostima Che verranno fatte I prossimi giorni Quindi i rallentamenti Perché sarà il senso unico alternato Anche qui E poi I classici lavori Diciamo Via Triciasimo Le rotatorie nuove Che sono in costruzione Quindi tanti lavori Per cantieri Poi ci sono Gli allestimenti Di Friuli Doc Che sono iniziati Al momento però Ispettore Non ci sono incidenti Quindi non dobbiamo dare Notizie legate A rallentamenti O chiusure di strade Legate a incidenti Dell'ultimo minuto Situazione tranquilla Su quel fronte Per il momento sì Siamo così E speriamo di cedere Tutti per l'inizio Delle scuole Di Friuli Doc In cantieri Perfetto Grazie mille Grazie all'ispettore Alessandro Baita Per questo flash Per questo aggiornamento Sul traffico Noi andiamo avanti Con la nostra Rassegna stampa E andiamo Chiudiamo la pagina Dedicata al Pordenone E prima di passare Ai quotidiani Nazionali Andiamo a vedere Anche alcune notizie Che ci arrivano Dagli altri sport Andiamo a vedere Anche se ci sono Delle novità Sulle basket In realtà Abbiamo qualche problema Di visualizzazione Allora spostiamo Subito la nostra Attenzione Sui quotidiani Nazionali Andiamo a vedere La prima pagina Della gazzetta Dello sport E vediamo subito Il titolo di apertura Sulla testa Sulla testa Un titolo che Accomuna Ferrari E anche La nazionale Di calcio La Ferrari Che come abbiamo Detto prima Ieri non ha vinto A Monza Dove c'è stato Un dominio Di Hamilton Hamilton Domina Monza Fette il terzo Sorpassato Nel mondiale Rabbia Marchionne Che dice Imbarazzante Mi girano le balle Queste le parole Di Marchionne Ma restano ancora Sette GP Sette gran premi Con alcuni circuiti Favorevoli Alle rosse E vediamo Anche poi La situazione Della nostra Nazionale Dopo la figuraccia Di Madrid Che però Non cancella Il lavoro Svolto E scatta Lo slogan In Russia Con furore Già domani Con Israele Serve Una risposta E andiamo A leggere Anche Il commento Di Umberto Zappelloni Che dice Due disfatte Ma ci Crediamo Imbarazzante Ecco la parola Che unisce Madrid E Monza La disfatta Azzurra E quella rossa I tre gol Incassati Al Santiago Bernabeu E i 36 secondi Di distacco Presi ieri Ne sono La sintesi Aritmetica E poi Ancora Vediamo Anche invece L'analisi Di Arrigo Sacchi Che si concentra Sulla nostra Nazionale L'idea di Ventura Va rispettata Il nostro È un paese Conservatore Che nel gioco In generale Ha conosciuto Scarsi sviluppi E novità Non sempre Cambiare Equivale A migliorare Ma per migliorare Bisogna Cambiare Dice Arrigo Sacchi E poi Ancora Vediamo A centropagina Belgio al mondiale Incredibile Lussemburgo Ferma La Francia Degli Strapagati Andiamo A vedere Adesso Anche le altre Notizie Andiamo A parlare Di serie B Perché ieri Si è Giocata Si sono giocate Le partite Della serie Cadetta Quattro squadre A punteggio pieno Dopo due giorni In B Volano Perugia E Parma Il nord Coreano Ancora in gol In testa Pure Carpi E Frosinone E poi Sempre per quanto Riguarda Il calcio Buone notizie Per Montella Silva Biglia Rodriguez Milan Dice Grazie Nazionali E poi Il gioiello Dell'Inter Diesel Gagliardini Lavora Sulla Ripresa In casa Juve Invece ci sono Novità Per Di Bala Di Bala Cambia manager E ritorna Dal fratello Novità Per lo Juventino Dal calcio Passiamo Passiamo al basket Agli europei Di basket Azzurri battuti Ma non piegati Dai giganti Lituani Ieri La nazionale di basket Ha perso Appunto Contro La Lituania Ma prosegue Il suo cammino Negli europei E poi ancora Vediamo ciclismo Alla vuelta Nibali Nella Sierra Rimbalza Su Fromme Ora È Imbattibile Andiamo a vedere Adesso Anche Il rompipallone Di Gene Gnocchi Che Ci riporta Alla Battuta Di Marchionne Formula 1 Monza Marchionne Furioso Le balle mi girano Talmente tanto Che hanno fatto Il giro Veloce Ma andiamo Adesso Anche Su Tutto Sport Così Andiamo A vedere Anche le aperture Degli altri Quotidiani Nazionali Iniesta Vuoi fare Il pirlo La Juve Lo tenta L'asso Spagnolo Del Barsa Ha il contratto In scadenza Nel 2018 Bianconeri Nazione Per un'operazione Simile a quella Che portò Il regista Azzurro Marotta A lavoro Anche per M.Grecan E Goretzka Dal primo febbraio Potranno Già Firmare In Casa Torino Toro Mai così Ricco Il valore Del club Ha raggiunto I 300 Milioni Gli analisti Dicono Il fatturato È da record Per la prima volta I ricavi Superano Quota 100 E le plusvalenze Dell'era Cairo Cairo Saliranno A 174 Ma il salto in alto Decisivo Arriverà Con la Qualificazione In Europa Boom Granata Andiamo nel taglio basso Adesso Così andremo a vedere Anche le altre Notizie Si parla Anche Della nazionale Su tutto sport Buffon Il flop Italia Cambieremo pelle Ventura sotto processo Dopo il tonfo Di Madrid Convocato Zappacosta Per il match Con Israele E poi Invece si ritorna Ovviamente Anche Sulla Spagna Isco Che storia Dai margini Alla Gloria Grazie A Bail Andiamo Nel mondo Dei motori Formula 1 Super Hamilton Fettele Terzo Ma staccato Ora Si fa Dura Dominio Mercedes A Monza Con Lewis Ora primo nel mondiale In trionfo E Bottas Secondo Ferrari Mai protagonista Marchionne Furioso Adesso si punta Su Singapore Per il riscatto Le altre notizie Verso Russia 2018 Le qualificazioni Al mondiale In Lussemburgo Come abbiamo letto Anche Sulla Gazzetta Ferma la Francia Belgio Qualificato Il miracolo Della Siria E poi Serie B Perugia Frosinone Parma E Carpia Punteggio Pieno Novara E Pro E allarme Per il basket Azzurri K.O. Con la Lituania Però con un datome Così all'europeo Tutto è possibile Andiamo a vedere Adesso Anche la Prima pagina Del Corriere Dello Sport Ecco Il titolo Di apertura Doppio scatto Scicchia Scicchia e Nani Vanno Di Corsa Scicchia e Nani Niente riposo Per il talento Della Roma A ritmi forzati Per prendersi Il posto Da titolare Primo allenamento Dell'asso portoghese Vuole subito Conquistare La Lazio E poi Ancora Andiamo a vedere Nel taglio alto La Bosnia di Gieco E Pjanic Spaventa l'Italia Di Madrid Ventura sotto processo Rischia Uno spareggio Pieno Di difficoltà E poi vediamo Che il Belgio è passato Francia Flop Clamoroso E ancora Vediamo Nel taglio basso Le altre Notizie Berardi E Chiesa In prima Fila Napoli Dell'Aurentis In azione Per il futuro Nei progetti Anche Castiglieio E Rulli Spalletti Montella Finora solo Vittorie E poi Frosinone Altra vittoria Con Ciofani E Crivello Battuto 2 a 1 Il Cittadella Zeman Crolla A Perugia Parma In volo Andiamo a vedere Con l'aiuto Della grafica Sulla prima pagina Del Corriere Dello Sport I risultati Della seconda giornata Della serie B Con la vittoria Dell'Ascoli Contro Provercelli 1 a 0 Brescia Palermo Che si è giocata Sabato 0 a 0 Cesena Venezia 0 a 0 Cremonese Avellino 3 a 1 Empoli Bari 3 a 2 Foggia Virtusentella 1 a 1 Frosinone Cittadella 2 a 1 Il Parma Che batte Il Novara Per 1 a 0 A casa del Novara Il Perugia Batte il Pescara Per 4 a 2 E la vittoria esterna Del Carpi Contro Lo Spezia E vediamo La classifica Con Perugia Frosinone Prima di salutarci Però vi ricordo Che come ogni lunedì Anche questa sera C'è l'appuntamento Con il nostro Udinese Tonight In diretta Alle 21 Vi ricordo Anche Il nostro Tg Alle 19 Come ogni giorno Io mi fermo qui Vi ringrazio Per la vostra Attenzione E vi invito Come sempre A rimanere In nostra compagnia Buona giornata a tutti